ehi la in questo video parliamo di ottimizzazione del kernel linux ci sono delle distribuzioni linux che ci permettono di scegliere diverse versioni di linux quindi il kernel altre distribuzioni scelgono loro per noi e in molti casi diciamo che va anche abbastanza bene tuttavia l'ottimizzazione è un argomento molto interessante e molto vasto e in questo video in particolare parlerò di ottimizzazione del kernel se effettivamente ha senso oggigiorno oppure è meglio tenere quello che ci troviamo io sono luigi in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare puoi seguirmi su telegram te consapevole e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della te consapevole academy ok avevo fatto in precedenza un video dove comparavo i browser quindi il software più utilizzato da tutti ormai sul computer comparavo lo stesso browser stessa versione su diversi sistemi operativi per esempio linux freebsd e windows e anche qua tra diverse versioni di linux si notava qualche piccola differenza niente di così sconvolgente tuttavia ci sono distribuzioni linux che da quando e me da quanto emerge dai benchmark effettivamente riescono a performare meglio pur utilizzando l'hardware che uno è abituato ad usare quindi in alcuni casi effettivamente può fare la differenza se avete dei software che non sono ottimizzati magari sulla versione non ottimizzata al video vi va scatti sulla versione invece ottimizzata riuscite a utilizzare il computer che avete senza questo tipo di limitazione e in questo benchmark che appunto era uscito su foronix veniva menzionato questo kaki os che è una versione alternativa di arch linux che ha alcune ottimizzazioni tuttavia uno dei vantaggi di utilizzare arch linux è che è molto semplice applicare queste ottimizzazioni e come dicevo prima alcune ottimizzazioni sono effettivamente utili altre ottimizzazioni diciamo non portano dei benefici particolari tuttavia c'è questa distribuzione che si clear linux che ho anche provato in precedenza che secondo questi benchmark offre appunto delle performance molto più elevate rispetto alle altre versioni di linux però nel nel mio caso reale ovvero a me quello che interessa di più il browser non è che ho notato tutta questa differenza e in questo video invece vediamo cosa succede se andiamo a provare diversi kernel linux ottimizzati in modo diverso allora sul sito ufficiale kernel.org i kernel principali sono due attualmente quindi la versione stabile che attualmente è la 6.6 e la versione lts che attualmente è 6.1 quindi nel caso di linux un po tutte le distribuzioni ci permettono di scegliere linux stabile o linux lts molto dipende anche dall'hardware che abbiamo se abbiamo un computer recente probabilmente il fatto di usare un kernel recente ci dà un vantaggio perché magari supporta più hardware ma se abbiamo un computer già di 3 o 4 anni magari questa differenza non è più così tanto evidente appunto ho menzionato arch linux perché secondo me ha una documentazione ben fatta sull'ottimizzazione del sistema operativo in molti casi molti dei consigli che vengono citati in questa guida sono diciamo già applicati di default in alcune distribuzioni desktop tuttavia se notiamo dei rallentamenti anomali è interessante andare a vedere effettivamente cosa si può fare quindi possiamo ottimizzare il disco per esempio cercare di scrivere il meno possibile sul disco perché magari il disco non è molto veloce possiamo decidere di configurare la ram in un certo modo piuttosto che un altro possiamo controllare effettivamente che il software utilizzi tutte le estensioni che ci mette a disposizione la nostra cpu possiamo decidere di cambiare driver della scheda video in alcuni casi questa cosa porta dei benefici e in alcuni casi il fatto di utilizzare un kernel ottimizzato potrebbe anche significare che abbiamo un computer più veloce ma anche un computer che consuma di più quindi in realtà l'ottimizzazione non è un qualcosa di gratis in alcuni casi diciamo consumiamo più energia elettrica in altri casi magari l'ottimizzazione ci porta a una rottura delle compatibilità quindi sono tutte cose da andare a vedere con molta attenzione ok quindi cosa ho provato allora i kernel linux che ho provato sono 5 adesso vediamo un po tutti i kernel che ho provato grazie ad arch linux allora uno dei kernel che ho provato è ovviamente linux che è quello installato di default in arch linux e attualmente la versione 6.6 poi ho provato linux kakios che è appunto linux del benchmark precedente e questo è anche il sito ufficiale dove trovate il sorgente e le modifiche che vengono apportate anche qua nella descrizione dice kernel migliorato con miglioramenti di performance e altri benefici se volete approfondire in dettaglio che cosa viene fatto appunto guardate questo sito nel mio caso in particolare ho visto anche che su arch linux ci sono diversi kernel kaki io ho scelto quello standard che si chiama appunto linux kaki os tuttavia ce ne sono anche altri che però non ho testato in questo video altro kernel che ho testato è linux amd tra l'altro questo kernel ho dovuto compilarlo a mano quindi c'è voluto un paio d'ore per compilare questa cosa anche qua ci sono più versioni del linux amd quindi c'è quello z n ver 3 z n ver 2 io ho usato solo linux amd perché non sono sicuro che il mio hardware sia compatibile con gli altri kernel e sicuramente ci sono altri kernel se andate sul sito di arch linux oppure quello di aur mettete linux trattino vedete che ce ne sono tantissimi quindi con anche diverse variazioni diverse versioni state attenti che alcuni kernel presenti non sono aggiornati quindi rischiate di utilizzare dei kernel che magari sono stati mantenuti per un breve periodo ma non sono stati più aggiornati e l'altro kernel che ho testato è questo linux zen anche anche questo è un kernel che ci dice che ha delle ottimizzazioni e dovrebbe essere più responsivo al costo appunto di consumo dell'energia ok e ultimo kernel che magari ha senso più in debian quindi un approccio più conservativo è linux lts quindi il kernel ancora più stabile di quello stabile cosa è successo ci sarà effettivamente un beneficio andiamo a scoprirlo ok questi sono i test che vi dicevo questi sono i test che vi dicevo e i test che utilizzato sono appunto browser bench speedometer con chromium quindi il browser probabilmente la base più utilizzata e ho fatto anche test anche con firefox 120 questo dovrebbe essere chromium 119 come vedete qua sotto potete leggere il tipo di kernel quindi questo è il punteggio più il punteggio alto più la cosa è positiva e ovviamente ogni volta ho dovuto riavviare il computer per applicare il kernel perché non ho fatto questi test in macchina virtuale quindi 73.8 con il kernel lts speedometer questo invece è l'altro benchmark che mi interessa che è diciamo il 3d comunque sempre all'interno del browser quindi è un test webgl che si chiama aquarium anche qua mi raccomando parametro 15.000 perché altrimenti otterrete dei valori diversi anche qua kernel lts e mi ha fatto 47 fps questi sono gli stessi test fatti con firefox nel caso in particolare firefox 120 mi ha dato un valore maggiore su speedometer ma su webgl mi mi ha dato un valore inferiore sempre con kernel lts ok altro kernel come vedete questo non è più lts questo è quello standard linux stabile stranamente il valore di speedometer è inferiore non di molto lì era 73 e qua siamo 71.6 con il kernel linux stabile questo è webgl quindi sempre linux stabile 47 fps e questo è sempre linux stabile però con con firefox 132 e 33 fps su aquarium altro kernel questo è la versione ottimizzata md di linux stabile non ci sono stati particolari vantaggi e qui apro una parentesi anni fa mi è capitato di compilare dei software su linux gentù e poi mi sono accorto che gli stessi software su linux ubuntu andavano più veloci nonostante non avessi fatto praticamente nulla quindi non sempre compilare da voi le cose vi porta dei vantaggi particolari anche perché alcuni software desktop magari includono delle patch o comunque delle modifiche che magari nella versione default non non ottenete ok questo è sempre linux md 47 questo è con firefox 129 quindi linux md mi dà comunque un punteggio inferiore rispetto linux standard e 30 fps con aquarium sempre linux md altro kernel questa volta è uno di quelli ottimizzati questo è zen 72 su speedometer linux zen 6.6.2 e 46 su webgl sempre linux zen questo è linux zen su firefox anche qua 131 e il massimo finora ottenuto era 132 e 36 su webgl questo è un tool invece che ho utilizzato all'interno di obs visto che alcuni miei video andavano a scatti poi sono andato a indagare meglio qual era il problema e non era un problema di di kernel o perlomeno non era così importante il kernel ve lo dico dopo qual era il problema e appunto per installare questi kernel potete selezionarli dall installer e in alcuni casi il kernel kakio s c'è anche un repository compatibile con arch linux che potete abilitare ok quindi questo poi è quello che ho installato senza altre ottimizzazioni ok quindi questo è il kernel kakio s sempre basato sulla versione 6.6 qui abbiamo 72.7 e il massimo finora era 73 e 40 sui pesci dell'acquario webgl sempre kakio s molto simile kakio s su firefox 129 e con questo sono conclusi i test che ho fatto quindi conclusione in molti casi non è il kernel che fa la differenza nel mio caso in particolare i test migliori li ho avuti col kernel tra virgolette vecchio quindi non sempre le cose aggiornate effettivamente sono quelle più ottimizzate spesso le cose aggiornate portano novità ma non sempre sono novità di performance soprattutto sui computer che magari non sono recenti infatti il punteggio più alto su chromium l'ho avuto su il kernel lts quindi neanche linux 6.6 ma linux 6.1 e questa cosa è così anche per quanto riguarda appunto firefox quindi questo era sempre firefox su lts il kernel zen diciamo basato sulla versione 6.6 di linux anche ha dato dei risultati abbastanza buoni tuttavia ripeto nel mio caso in particolare il fatto di aggiornare il kernel non mi ha portato dei dei vantaggi particolari nel caso in particolare quello di obs quello che mi ha portato molto vantaggio è quello di utilizzare effettivamente un codec video che fosse più leggero o comunque supportato dal mio tipo di hardware quindi nel caso veramente di questioni audio video dove si vede veramente la differenza è se usate un codec che effettivamente è supportato dal vostro hardware oppure meno e questa cosa secondo me si può applicare un po a tutte le le questioni nel nel caso della della ram è stato un altro fattore secondo me importante nel cioè diciamo che effettivamente porta dei benefici se avete un computer che non ha abbastanza ram il fatto di avere una swap utilizzata in modo corretto anche quella è un tipo di ottimizzazione che porta dei dei benefici altre cose se avete ancora dei dischi che girano quindi dischi non ssd magari ha senso limitare il numero di scritture visto che comunque quando scrivete su disco comunque il sistema rimane un po rallentato per il resto molto dipende dal dal caso d'uso quindi se dobbiamo fare una classifica per esempio nel caso del browser quello che ha influito di più è il tipo di browser quello sicuramente influisce tanto il tipo di sistema operativo e metterei il kernel solo al terzo posto come ottimizzazione che si può fare su linux che sia veramente che porta dei vantaggi tangibili questo è tutto fatemi sapere voi se adottate delle ottimizzazioni particolari che vi portano dei benefici reali questo è tutto come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao a tutti